Noi chiederemo alla Commissione di risarcire i vivaisti. Speriamo che il Governo italiano supporti questa nostra richiesta in quanto siamo certi che a fine novembre la decisione dell'Efsa e quindi della Commissione sarà a favore della commercializzazione delle barbatelle e quindi speriamo che almeno in questo il Governo italiano non fallisca.